Avete sentito un brano della bellissima colonna sonora giustamente premiata a Venezia di Miss Marks di Susanna Nicchiarelli uscita al cinema dal 17 di settembre per quanto riguarda il nostro spazio temporale domani Esatto, Dancing in the Dark dei Downtown Boys, questo è il brano che avete appena ascoltato che appunto fa parte di questa colonna sonora di questo film che racconta la storia di Eleanor Marks che è una delle figlie di Marks La figlia più piccola se non sbaglio La figlia più piccola, esatto Passato dal Festival di Venezia appena finito, non ha vinto i premi in quegli ciccioni, quelli grandi come purtroppo fa tanto sapere Paolo del Brocco di Rai Cinema ma è sicuramente una delle cose più interessanti che ho visto nell'anno Miss Marks è un bel film, possiamo dirlo? Sì, regia di Susanna Nicchiarelli, protagonista Romola Garai, molto brava, a me è piaciuta tanto e racconta appunto la storia di questa figlia piccola di Marks che ha avuto in realtà una grande importanza nel proseguire l'opera diciamo sociale e intellettuale del padre sia appunto nel creare nuovi contenuti contenuti, questo è un termine moderno, diciamo nello scrivere esatto, nuovi pamphlet ma anche lettere molto belle che tra l'altro sono fedelmente riportate all'interno del film infatti la regista Susanna Nicchiarelli era fiera di sottolineare il fatto di aver utilizzato grandemente di aver anche potuto consultare questo archivio degli scritti di Eleanor Marks che in effetti ci stanno benissimo, nella storia sono inseriti in maniera molto intelligente così come viene sottolineato un po' questo conflitto tra la parte diciamo politica di Eleanor Marks a sostegno per esempio delle politiche femministe, a sostegno delle donne, dei poveri, dei lavoratori e invece dal punto di vista privato una Eleanor Marks un po' costretta in una relazione che la vede un po' subordinata rispetto ad un compagno, perché non è mai stato marito ma di un compagno che un po' fa il cavolo che gli pare compagno doppiamente detto in gergo in maniera doppia perché sia compagno di partito ma sia compagno nella vita nella vita esatto il racconto parte dalla morte di Marks che sarebbe Edward Evelyn sì appunto il racconto, quello che vediamo nel film, in Agili, in un'ora e quaranta se non sbaglio in un'ora e quaranta sette che scorrono centosette minuti veramente molto lisci è dalla morte di Karl Marks sì alla morte, non è uno spoiler perché se vedete anche Wikipedia c'è di Eleanor Marks il punto di vista e quindi la scelta, il taglio è veramente molto rafforzato dallo studio che la Nicchiarelli ha fatto dicevi giustamente che la trasposizione di documenti, di non registrazioni, forse sì qualcosa forse addirittura è riuscito a sentire no, sentire no, però per esempio ha attinto anche a quelli che erano a parte l'epistolario quelli che erano dei giochi che si facevano in famiglia fighissimi quella è una bellissima scena e lei ha scoperto che in famiglia facevano questo gioco che era un po' un non so, dimmi c'era nello specifico la piccola Eleanor Marks che faceva delle domande agli altri membri della famiglia tipo qual è il motto della tua vita o qual è il tuo cibo preferito queste domande che si fanno in una situazione di divertimento intima, domestica e che era effettivamente un gioco che facevano i Marks con i loro amici tra l'altro la famiglia Engels che è molto molto presente per la famiglia Marks insomma se avete presente tutti i pregi di Maria Antonietta di Sofia Coppola probabilmente li troverete in Miss Marks perché i pregi di Maria Antonietta erano appunto non dico svecchiare ma raccontare con una camera un po' più vicina il personaggio la donna anche i vezi anche un po' la favorita io ci ho visto come Mori sì 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 però appunto Sofia Coppola poi esagerava esatto esatto meno fuori dalle righe ecco più reale qui la Nicharelli fa un buon equilibrio tra sentimento e gusto come direbbe qualcun altro il tutto con un film se non sbaglio è il suo quarto quindi è anche un passo nel cinema europeo per l'autrice italiana il tutto condito da una fortissimo un impianto scenografico costumi pazzeschi appunto una fedeltà del documento sì anche se è stato magari appunto diretto e interpretato in location che non sono proprio quelle originali certo va bene però sono ricostruite molto bene una mega colonna sonora che accompagna tutto mega colonna sonora sì secondo me sì nel senso mega perché ci sta nonostante vada completamente fuori rispetto all'epoca o meglio c'è appunto questa parte diciamo punk che avete ascoltato di Downtown Boys che sono inserite nella colonna sonora anzi sono addirittura ballati cantati dai protagonisti e quindi è proprio diciamo uno scollamento rispetto alla realtà e poi ci sono invece continua la collaborazione con questo gruppo che è i gatto ciliegia contro il grande freddo che nella in Miss Marx hanno rivisitato dei classici ottocenteschi parliamo di Chopin per esempio però l'hanno riarrangiati diciamo in chiave moderna in chiave elettronica esatto purtroppo non sono ancora disponibili altrimenti avremmo scelto di mandare in onda proprio quello quelle cose tratte dalla colonna sonora ma comunque Gatto Ciliegia hanno un ampio diciamo portfolio musicale e quindi ci ascoltiamo comunque loro da richiesta esplicita all'etichetta che cura la colonna sonora uscirà la colonna sonora di Miss Marx tutta dedicata a Gatto Ciliegia contro il grande freddo la colonna sonora è stata la vincitrice l'unico premio che ha preso Miss Marx perlomeno non posso dire l'unico perché non è ancora finita la la sua il suo viaggio però a Venezia ha vinto miglior colonna sonora per Gatto Ciliegia contro il grande freddo Danton Boys che abbiamo sentito tra l'altro perfettamente coerenti il primo il brano il disco che abbiamo sentito si chiama Full Communism ok perfetto cioè proprio loro avevano la Nicchiarelli ha detto ci serviva un gruppo comunista molto comunista e loro sono molto adatti molto molto adatti ci ascoltiamo invece tratto dalla colonna sonora di Nico che è un film precedente sempre di Susanna Nicchiarelli Gatto Ciliegia contro il grande freddo nella loro versione di Big in Japan Grazie a tutti